Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere insieme questo esercizio che riguarda potenza persa, quindi le perdite specifiche all'interno di un motore elettrico e il regime termico raggiunto durante una prova di riscaldamento. Quindi ci rifacciamo alla lezione di teoria in cui abbiamo parlato di curve ideali di riscaldamento e di raffreddamento e delle varie perdite nelle parti di una macchina elettrica. Allora in questo caso abbiamo il motore elettrico che ha una potenza utile e luminale di 6 kilowatt, quindi dato della targa, la sua massa magnetica è di 50 chili mentre la massa elettrica degli avvolgimenti di rame è di 6 chili. Nel funzionamento a potenza nominale presenta una perdita specifica nel rame di 30 watt a chilo e nel ferro di 3 watt a chilo. In più c'è una potenza meccanica forfettaria diciamo di 100 watt in tutto, una perdita meccanica. Per quanto riguarda le perdite di elettriche quelle addizionali sono da considerarsi trascurabili e questo succede sempre perché sono sempre come valore molto inferiore a quelle che sono gli altri tipi di perdite, quindi in genere vengono trascurate tranquillamente. Abbiamo che il regime termico che sarà poi a 75 gradi celsius viene raggiunto durante la prova di riscaldamento dopo 500 secondi. Alla partenza la temperatura si considera appare alla temperatura ambiente di 20 gradi celsius, vogliamo calcolare la potenza persa sia in valore assoluto che in percentuale, il rendimento, la costante di tempo termica, cui si rifà il regime termico, il raggiungimento, la capacità termica totale e il fattore lambda a. Ricordiamo che lambda è il coefficiente globale di trasmissione e che rappresenta la potenza termica che il corpo cede all'esterno attraverso appunto la superficie a, fratto quello che è il salto termico, quindi in questo caso dalla temperatura ambiente a quella di regime di 75 gradi. Bene, vediamo insieme come iniziare i vari step. Allora la prima cosa da considerare ovviamente è andare a calcolare quella che è la potenza totale persa, quindi con le varie componenti. In questo caso abbiamo, mettiamo qua la prima parte dello svolgimento, andiamo a calcolare quelle che sono le perdite nel rame, che saranno la perdita specifica, quindi 30 watt a chilo per i chili della massa del rame, quindi degli avvolgimenti che è 6 chili e mi verrà 180 watt. Le perdite nel ferro, stessa cosa, avremo le perdite specifiche di 3 watt a chilo per quello che è la massa magnetica, i 50 chili, e quindi qua abbiamo 150 watt. Poi abbiamo le potenze perse meccaniche che sono date genericamente appunto da questi 100 watt. La potenza persa totale sarà la somma di queste tre componenti che viene 430 watt. Ora andiamo a calcolare questa in percentuale, quindi se vogliamo fare la potenza persa in percentuale, faremo semplicemente la potenza persa totale, quindi 430, fratto la potenza nominale, quindi i 6k che diventano 6.000 per cento, quindi andremo poi a fare il per cento e questa viene circa 7,2 per cento, quindi una potenza persa relativamente bassa rispetto alla potenza, rispetto a quella che è la potenza nominale. Ora per quanto riguarda invece il rendimento, per il rendimento andiamo a vedere. Allora il rendimento eta è pari alla potenza nominale meno la potenza persa, fratto la potenza nominale. Quindi andiamo, anche questo qua non chiede di farlo in percentuale, anche questo volendo mettendo il per cento ci viene il valore percentuale, in questo caso non c'è stato richiesto di metterlo in percentuale, quindi ce lo teniamo come valore. Quindi qua avremo 6.000 meno 4,30 fratto 6.000 e viene circa 0,93. Io approssimo sempre a due cifre decimali perché insomma diciamo che il rendimento e i calcoli in genere due cifre decimali bastano e avanzano. A questo punto siamo arrivati a rendimento, ora ci serve calcolare quella che è la costante di tempo termica, quindi la tau che mi serve per il discorso del raggiungimento del regime termico. Ricordo che la curva ideale di riscaldamento che si approssima tranquillamente è un esponenziale crescente, un po' come la carica di un condensatore per intenderci, dove abbiamo proprio la costante tau che è il valore, diciamo la proiezione di quella che è la tangente nel punto 0 e che il regime termico avviene dopo 4,6 che sarebbero quei 5 tau, un po' più precisamente 4,6 tau. Quindi per andare a trovare tau se il regime viene raggiunto dopo 500 secondi ci basterà fare 500 diviso i 4,6 che sono appunto il tempo in cui si considera raggiunto il regime. Quindi andiamo a fare tau, ecco qua, quindi ho scritto quanto detto a voce, quindi andiamo a fare 500 diviso 4,6 e mi viene 108,7 secondi. Bene, a questo punto, quindi siamo alla costante di tempo termica, adesso la capacità termica totale, quindi il salto sarà diciamo di 75 gradi che è la temperatura di regime meno la temperatura ambiente, quindi avremo il salto termico che è di 55 gradi e quindi possiamo andare a calcolare, in realtà calcoliamo prima lambda e poi andiamo a calcolare la capacità termica CT, quindi andiamo a calcolare per prima cosa il salto termico che è teta delta R, quindi 75 meno 20, 55 gradi Celsius e siccome il salto termico è pari alla potenza persa fratto il fattore lambda, posso andare a calcolare questo fattore lambda che in effetti era quello che ci chiedevano come potenza persa fratto il salto termico, quindi andrò a fare 430 diviso 55 e mi viene 7,82 watt fratto gradi Celsius che è il mio fattore lambda, ora da questo posso andare a calcolare la capacità termica totale che è pari a tau per lambda A, quindi il tau meno questo ok per lambda A quindi vado a fare 108,7 secondi per 7,82 e mi viene 850 e questa è come unità di misura joule fratto gradi Celsius, quindi capacità termica termica totale e quindi questa può essere calcolata o come prodotto tra il calore specifico e la massa del corpo ma in questo caso viene calcolata attraverso la curva diciamo ideale di riscaldamento e l'arrivo a regime termico con i vari fattori che abbiamo visto e abbiamo calcolato. Bene, spero che questo esempio di esercizio riguarda quello che abbiamo visto di curva ideale di riscaldamento sia piuttosto accessibile e sia abbastanza chiaro, fatemelo sapere nei commenti, spero vi possa essere stato di aiuto, ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao!